Ok, bene, buongiorno, posso andare? Tutto a posto? Bene, buongiorno, grazie di essere qua così tanti. Quando ho visto che l'appuntamento era andato esaurito, ho pensato, beh, cavolo, nessuno sa cosa fare sui social media, quindi probabilmente o serve, oppure c'è qualcosa che... forse non dovremmo sfidare il destino se non sappiamo esattamente cosa dire sui social media, forse ci sarà un motivo, no. L'idea della presentazione di oggi è un po' seria e un po' no, spero che la parte non seria l'appreziate almeno come divertimento. Ho messo assieme un po' di idee, perché spesso andando nelle aziende, parlando con gli imprenditori, soprattutto con i manager, così, hanno questa specie di blocco dello scrittore, no, da pagina bianca, arrivano lì, aprono la loro pagina Facebook, di solito la pagina Facebook, perché non sanno cos'altro c'è in giro, e dico, vabbè, adesso che ci facciamo, cosa ci mettiamo dentro? Allora, certe idee non prendetele alla lettera, magari se la regia può scrivere sotto, non fate questo a casa, come nei programmi di MTV, magari è una buona idea. Vabbè, io sono Gianluca Diegoli, lo leggete lì, il mio account Twitter è scritto lì e il blog anche. Potete googlare, così risparmiamo i dieci minuti di pippone iniziale su chi sono, cosa faccio, eccetera, eccetera. La prima idea, che poi è un consiglio su come iniziare a pensare a cosa fare sui social media, è fare un disegnino, farlo fare a vostro figlio, agli amici di vostro figlio, per dare una faccia, dare una faccia al vostro utente. Potete fargli anche una foto, se volete. Cosa significa tutto questo, al di là degli scherzi? Significa che dovete avere un identikit ben preciso di chi è la persona che dovrebbe leggervi. Perché molto spesso, quando noi andiamo a scrivere, pensiamo ai nostri clienti, al nostro pubblico, alla nostra audience, che è una roba di solito indeterminata, non hanno facce, sono dei target, dei segmenti di mercato. delle analisi sui fogli Excel. In realtà, la cosa migliore è fargli proprio un identikit e dargli anche un nome. Io la chiamo Biba, molto spesso. Ovviamente dovete dargli anche un'età, un sesso, qualche interesse e che cosa fa nella vita, insomma. Quindi, dovete averlo bene, ben presente. Il secondo consiglio low cost, qua viene un po' tagliato, ma ve lo dico io, è usiamo gli smartphone. Se siamo direttori, se siamo medici, se siamo imprenditori, se siamo responsabili di un ufficio marketing o comunicazione, regalatelo, sto cavolo di smartphone, ai vostri dipendenti. Oppure, se siamo dipendenti, facciamocelo regalare. Perché? Perché con uno smartphone riusciamo a fare che cosa? Ad avere un momento continuo in cui possiamo creare contenuti. Cioè, non un momento continuo, scusate, un flusso continuo in cui possiamo creare contenuti. Il grande problema di tutti quelli che creano contenuti per i social media, soprattutto all'interno dell'azienda, è il fatto che stanno dentro l'azienda. Stanno davanti a un terribile desktop con tutte le loro fotine dei loro cari e non vedono, a volte non vedono nemmeno l'azienda, perché magari la produzione è a 500 chilometri oppure è vietato l'ingresso. E allora cosa fanno? Boh, cercano di scrivere delle cose interessanti, ma la maggior parte delle volte non ci riescono. Quindi, prendete questo cavolo di smartphone, andate fuori, andate in azienda, andate in giro e cominciate a raccontare con gli occhi dell'azienda quello che vedete. Non è... Se fanno foto brutte non è così un gran problema, perché Biba fa delle foto brutte anche lei, quindi magari ci si ritrova nelle foto brutte. Magari le foto brutte dice, beh, queste foto dovrei averle fatte io. Cosa che non succede quando vediamo i cataloghi patinati, soprattutto dei brand di moda o cose di questo genere. Quelle sono foto perfette, quando ci sono gente perfette in location perfette. Sono cose belle da vedere, ma in cui il nostro utente, la nostra Biba, probabilmente non ci si ritrova tanto. Magari lo vede come una cosa bellissima, ma dice, boh, è una roba che non mi interessa più di tanto. Quindi, meglio foto brutte, ma vere, che foto, diciamo, create ad arte, che di derivazione, diciamo, pubblicitaria. Però tutto inizia da regaliamo lo smartphone ai nostri dipendenti. Poi c'è l'altro blocco del nostro, diciamo, dirigente o manager, è quello dei contenuti. Ah, i contenuti, vado dall'agenzia che mi crea contenuti, che deve pensare i contenuti, il consulente che va dall'agenzia che crea contenuti, che va dall'editor che poi trova il copywriter, una cosa lunghissima. Normalmente, nessuno sa usare Google, che dopo 15 anni di Google, insomma, non è incoraggiante. Nessuno sa usare le funzioni avanzate. In Google ci sono, se tu riesci a segmentare quello che vuoi cercare, puoi trovare delle cose interessanti. Naturalmente non devi scrivere tre cose e vedere cosa esce nella prima pagina. Devi cominciare a usare la ricerca avanzata, cercare quello che c'è nei forum, quello che c'è nei blog, quello che è stato detto solo recentemente, o quello che è stato detto dieci anni fa. Incrociando tutte queste cose, riusciamo a trovare contenuti interessanti da fare cose, da riproporre. Sì, ma magari possiamo anche aggiungere qualcosa, però partiamo da quello che c'è in rete. Partire da quello che c'è già in rete significa trovare, prima di tutto, quello che interessa alla nostra audience. I contenuti che sono già in rete dimostrano quello che interessa alla nostra audience, in modo da non sbagliare e non mettere in rete cose che non interessano a nessuno. Poi, quando la nostra audience si interessa molto come può diventare un vampiro, magari qualche consiglio è più difficile da dare, però su IA Answer, se volete cercate, ci sono un sacco di consigli su come diventare vampiri. Anche recentemente, 8 luglio 2012, vanno sempre molto di moda. C'è un'altra grande fonte di ispirazione, ci hanno inventato gli hashtag. E da quando ci sono gli hashtag e social network aperti come Twitter o come Instagram, il mondo, diciamo, dei contenuti e dei consulenti e del marketing è cambiato. Possiamo vedere quello che gli altri stanno mettendo in rete su determinati argomenti. Se io fossi un trend hunter, passerei tutta la giornata su questi ambienti. ieri sera ho fatto una foto a Milano con un certo tag, dopo 10 minuti in Instagram era già scesa fuori dalle ultime 20 foto in ordine cronologico. L'abbondanza di contenuti che possiamo reperire in rete non è mai successa in tutta la storia, diciamo, della comunicazione. Però dobbiamo andare a cercare gli hashtag che ci interessano. Questo è l'aspetto che riusciamo a fare. Trovare gli hashtag giusti significa trovare foto, ma trovare anche spunti. Le foto possono essere inserite nei nostri luoghi sociali, nei nostri Tumblr, nei nostri blog. Io quando parlo di social media mi riferisco mai solo ai social media in senso stretto. Un blog per me, un blog aziendale, è un social media. Quindi riuscire a trovare contenuti interessanti tramite gli hashtag significa anche testere delle relazioni. Molto importante. Quindi trovo una foto che mi interessa particolarmente, chiedo a chi ha fatto la foto se la posso citare. Nel 99% dei casi, a meno che non abbiate beccato il fotografo super incaronnito, vi dirà wow, grazie. Davvero vuoi pubblicare la mia foto? Magari se c'è un blog vi metterà pure il link al vostro sito, alla vostra pagina. Quindi oltre ad avere il contenuto a gratis ci avrete anche un link, compreso nel pacchetto. Terzo segreto di Fatima, diciamo, del trovare contenuti interessanti e strani e non i soliti, poi vi dico anche perché, è una roba che si chiama Stambolapon, che in Italia usano pochissime persone. E quelli che lo usano non lo dicono nessuno. Quindi io ormai ho rotto questo segreto. Perché? Perché Stambolapon evita il problema del filtro della bolla. Io seguo voi tutti, magari qualcuno di voi mi segue, io seguo qualcuno, tutti noi vediamo gli stessi contenuti, perché io seguo voi, voi seguite me, oggi c'è la social media week, domani un'altra cosa. Va bene, perfetto. Però se io voglio trovare qualcosa che mi stupisca, probabilmente devo uscire da questa bolla. Devo uscire dalla bolla e trovare degli argomenti. Stambolapon, col suo carattere di, come dire, randomicità, casualità, nel proporre contenuti su determinati argomenti, è assolutamente perfetto. Propone foto, propone testi, propone qualunque tipo di video, qualunque tipo di cosa. Dovete scegliere i vostri argomenti. E lui impara. Man mano che gli dite quello che vi interessa e quello che non vi interessa, lui vi propone sempre di più quel tipo di argomenti e di contenuti. Poi a un certo punto imparerà così tanto bene che di nuovo starete dentro una bolla e quindi dovrete cambiare probabilmente account e trovare qualcos'altro. Questa è una foto che ho trovato cercando come spiaggia. L'ultimo strumento interessante che può essere usato è ZEIT. Anche ZEIT non è tanto conosciuto. È un po' una via di mezzo tra, è scritto ZITE, una via di mezzo tra il vostro rettore di FIDRSS e Stambolapone. Cosa fa? Fa un po' di tutte e due. Un po' vi trova le cose che vi interessano e che leggete normalmente, un po' a partire dalle cose che leggete normalmente ve ne trova di nuove, correlate, che magari sono state lette molto di più o apprezzate molto di più. È quasi tutto in lingua inglese. Anche Stambolapone, la maggior parte dei contenuti, è in lingua inglese. L'internet è in lingua inglese in realtà, a parte il cinese e altri. E quindi, cosa è il passo successivo che possiamo fare per trovare contenuti da mettere sui nostri luoghi che possano interessare a Biba? Possiamo tradurre il meglio. La traduzione funziona. Gli italiani non leggono in inglese. Noi però possiamo cercare in inglese, spero. E capirlo, e tradurlo. Quindi il solo fatto di tradurre i contenuti da fonti dove ci sono fonti più avanzate di quelle italiane, fa sì che noi diamo utilità al nostro utente. Oltre a dimostrare che abbiamo una visione un po' meno provinciale, diciamo, di quella solita. Quindi, la traduzione funziona. Poi, come potete vedere, sono spesso dei blog anche italiani che pubblicano interamente articoli che poi avete trovato come traduzione di Mashable di tre giorni prima. Oppure, devo dirlo, anche i giornali, quelli che escono anche in edicola, spesso fanno articoli che sono quasi traduzione. Ma noi siamo cattivi. Se lo fanno loro, cavolo, facciamolo anche noi. No? Ci facciamo dei problemi? No. Ok. Quindi, traduzione. O, l'altra cosa che possiamo fare... Non è che dobbiamo fare tutto, è quello che vi sto dicendo. Anzi, forse qualcuno di voi non deve fare nulla, quindi, ancora una volta, disclaimer, attenzione a fare queste cose. Però una delle cose che possiamo fare è, uno, rilassarsi, due, dare le chiavi di casa, cioè l'accesso, la possibilità di scrivere, la possibilità di condurre una linea editoriale alle persone che ci amano di più. Quelli, i nostri super fan. Ogni scarafone, diciamo, eccetera, eccetera. Quindi dovremmo avere qualcuno. Perché non riusciamo a dargli fiducia, se è uno che ci ama così tanto, a condurre per noi i contenuti sulla nostra pagina Facebook o sul nostro blog? Intanto ci evitiamo il collo di bottiglia di dover scrivere tutto noi, come ufficio marketing, eccetera. Due, probabilmente facciamo entrare un po' di aria fresca. Pensate, ormai è un caso di studio che mi stanco da solo a ripeterlo, però il caso della Svezia che dà ogni settimana a uno svedese diverso l'account Twitter dello Stato, praticamente, Sweden, Chiocciola Sweden. Ovviamente a volte possono succedere qualche casino, però le persone sono persone, i social media sono fatti per le persone e quindi tutto ci può stare. Tenete conto che se voi non volete prendervi nessun tipo di rischio sulle vostre social, della vostra azienda, probabilmente non siete adatti per avere dei social nella vostra azienda. Quindi tutto sommato un po' di rischio è necessario. Naturalmente se non avete, se non avete, non avete visto niente, se non avete dei super fan, il problema non è del vostro social, ma il problema è che non vi caga nessuno e quindi il problema è più a monte. Diciamo che forse comincerei a pensare più strategicamente al ruolo che il vostro progetto, la vostra azienda ha sul mercato prima di quello che ha sui social media. Cos'è quello specchietto retrovisore? Allora, i clienti spesso sono ottimi fotografi, no? Ah, è quello, ok. Sono ottimi fotografi, a volte anche ottimi scrittori. Se ne sono accorti qualche, per esempio qualche albergatore più illuminato degli altri, in mezzo alle 200.000 persone che passano in un posto tipo un albergo ogni anno c'è una media almeno di 200 ottimi scrittori e 100 ottimi fotografi. Normalmente, visto che sono clienti, dovrebbero apprezzare quello che vedono. Perché non utilizzarli per creare contenuti e creare interazione e anche ovviamente portare la loro rete sociale a contatto con quella della nostra azienda. C'è anche un altro fattore. La cosa che ho notato da qualche tempo è che le foto di Milano dei non milanesi sono più belle di quelle fatte dai milanesi. Diciamo, in linea di massima. Ma c'è una motivazione, secondo me. La motivazione è che chi non vede le stesse cose tutti i giorni è in grado di notare delle cose differenti, delle cose insolite, delle cose inaspettate. Quindi, se io sono in azienda e faccio foto alla mia azienda, dopo un po' non so proprio quale cosa può essere interessante all'esterno. Perché non lo vedo più sostanzialmente. vista dall'esterno è molto meglio. Per questo che le foto di Milano sono più belle dai turisti che dai milanesi. Ma vali per tutte le città, non è una cosa relativa solo a Milano. Questo è un sito che si chiama Fats and Cheeks. Scusate se è un po' not safe for work per quelli che ci seguono con lo streaming. che cosa fa? È un sito stranissimo che pubblica foto di belle ragazze, diciamo così, vestite, associate a dei dati inaspettati. Per esempio, in Brasile le oche vengono usate per la sicurezza nel carcere. Interessantissimo. A volte ci sono dei dati delle cose davvero inaspettate. Ed è uno strano progetto che paradossalmente ha avuto in rete un incredibile successo. Facendo due cose, mettendo ovviamente assieme qualcosa che funziona sempre e questa è la parte più scontata, mettendo anche assieme una cosa a cui non pensiamo mai, che le persone piacciono i dati piacciono le statistiche soprattutto se sono concentrate, chiare e sintetiche. È per questo che c'è stato il grande boom delle infografiche. I dati funzionano. Quindi in azienda spesso abbiamo dei dati e non li sfruttiamo. Perché non li sfruttiamo? Perché il dato è quello che pubblichiamo è abbiamo aumentato il fatturato del 10%. Che non frega niente a nessuno tranne a noi. Quello che frega fuori dalla nostra tienda è se sappiamo qualcosa su un determinato trend e un determinato settore. Quindi la vendita dei libri è calata del 20% salvo a Bolzano dove è aumentato del 5%. Non è vero però mi piaceva trovare qualcosa del genere. Questo incrocio di statistica e diciamo caratteristiche inaspettate possono funzionare come tipo di contenuto soprattutto se associati in maniera visuale. Ovviamente non dovete copiare alla lettera. Dai dati si può passare alle storie. Di storytelling diciamo se ne parla anche spesso a sproposito però è vero noi ricordiamo le storie e non ricordiamo i dati ricordiamo cosa abbiamo fatto in un certo momento cosa è successo in un certo periodo in un certo luogo ma non ricordiamo spessissimo nei numeri né statistiche. Quindi se è possibile iniziamo a raccontare le storie che esistono all'interno dell'azienda o all'interno o all'esterno dell'azienda le facce funzionano sempre benissimo e invece spesso facciamo dei lunghi comunicati stampa o cose di questo genere che sono pieni di parole come se più parole ci fossero più la cosa funziona non è così più la storia interessante più funziona non più quanto è lunga non so se si vede bene questa è cacca di cavallo l'avevo promesso nel tweet che ci sarebbe stato una slide sulla cacca di cavallo allora c'è il rifiuto della realtà spesso come se la realtà fosse poco presentabile per cui se noi io devo mostrare un mio cliente non mostro il mio cliente mostro vado dall'agenzia che mi fa un mock-up di un cliente e mi fa una storia finta dove il cliente va in una mia filiale finta e sono convinto che così sia meglio non è vero assolutamente almeno non sui social media la realtà funziona è meglio una realtà meno cool ma vera rispetto a una roba patinata che siamo portati a fare così dal nostro rettaggio pubblicitario degli ultimi 30 anni ma la realtà funziona meglio della finzione anche di una finzione diciamo molto ben molto ben fatta è una bella foto dovete dire un'altra strategia che possiamo mettere in campo è quella di intervistare gli esperti gli esperti hanno due caratteristiche uno sono esperti due sono vanitosi normalmente insomma quindi il fatto che se voi trovate un esperto che è abbastanza esperto ed anche abbastanza vanitoso ovviamente riuscirete a dandogli la giusta visibilità riuscirete a convincerlo a farvi dare delle interviste farvi dare un video farvi fare una risposta anche via mail farvi pubblicare un articolo qualunque cosa e intanto cosa fate? però date anche un contenuto utile il contenuto deve essere rilevante e utile per il mio pubblico quello che all'inizio avete visto come Biba Biba deve essere interessata a quello che il nostro esperto ha da dire a noi quindi possiamo scambiare questa visibilità nei confronti delle informazioni non è detto che dobbiamo andare a cercare gli esperti su quelli che scrivono sui giornali a volte gli esperti sono anche all'interno dell'azienda sono quelli che lavorano sulle cose che magari sono un po' timidi o magari non vogliono comparire però dopo un po' secondo me si possono convincere a utilizzare un altro strumento interessante per creare contenuti che muovono le persone è fare le classifiche chiunque abbia vissuto la storia della rete diciamo anche italiana negli ultimi anni ha notato che qualunque cosa che sia una classifica funziona del resto siamo nel paese del calcio calcio uguale partite uguale classifica oggetto sociale di discussione lunedì mattina la classifica e le partite stessa cosa funziona in rete se riusciamo a ottenere che i nostri contenuti provochino un meccanismo di competizione riusciamo a ottenere un contenuto che funziona quindi facciamo classifiche di tutti i tipi i dieci migliori cose che abbiamo visto i dieci peggiori hotel della nostra carriera cose di questo genere la classifica funziona sempre perché le classifiche sono sempre diverse per ogni persona quindi provocano in automatico un commento perché la mia classifica è sicuramente diversa dalla tua infrangere le regole perché la maggior parte degli account aziendali sui social media non funzionano perché sono terribilmente noiosi sono più noiosi del vostro amico più noioso quello che in rete non so pubblica solamente una volta all'anno la foto di lui che non so sul divano la cosa peggiore che non so possa fare vedete voi allora se pensiamo a quello che succede nel nostro settore guardiamo gli altri maggior parte dei nostri competitor farà cose noiose perché perché fa cose noiose perché rispetta dei tabù o delle regole che sono se ci pensate che sono consolidate all'interno appunto dei canoni comunicativi di un determinato settore si parla di uccidere la vacca sacra come termine proprio anche di marketing strategico pensare al contrario degli altri trovare qualcosa che vi differenzia totalmente il problema è che spesso in rete si trovano le voi cercate dieci modi per le best practice dieci migliori pratiche per cosa succede? sì vanno bene però poi le leggono tutti e quindi si finisce che più o meno tutti fanno le stesse cose questo è il problema della best practice che una volta una volta che viene usata come best practice non lo è più perché non vi differenzia più dagli altri quindi aumenta di una quindi o siete i primi a usarla altrimenti funzionerà abbastanza poco corollario del fare cose contrarie alla norma è farsi dei nemici gli account aziendali sono le persone più buone del mondo ciao scusi signor cliente rispondiamo di solito anzi tant'è che quando qualcuno risponde in malo modo subito si uscita noi si parla il caso si dice il caso di social network usati male quindi le persone possono comportarsi da persone sui social network le aziende pare che invece possono comportarsi solo da persone estremamente accondiscendenti delle specie di zerbini digitali ecco nei limiti in cui ovviamente non trattate male le persone ingiustamente probabilmente in molti casi è necessario però avere delle proprie idee prendere posizione su determinati argomenti capisco che è difficile perché ovviamente la grande azienda dice io non posso schierarmi politicamente non posso schierarmi su certi grandi argomenti però più ci riusciamo almeno su alcune cose più suscitiamo una certa forma di risposta non bisogna essere come dico io sciapi come il 99% degli account aziendali perché lo sono perché sono così by design democristiani dentro perché ovviamente sono dorotei dentro perché è più anziano perché non devono mai scontentare nessuno e non posso dire quello perché non posso dire normalmente questo deriva dal fatto che essendo la content strategy passata per 5 o 6 diciamo step aziendali in cui dalla diciamo dalle risorse umane il marketing la comunicazione poi passa all'ufficio legale l'ufficio legale dice no essere sui social media è illegale e quindi finisce tutto diciamo che se l'ufficio legale dice no è legale ma non dovete dire questo 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 al fine rimangono due o tre argomenti infatti vedete molti account aziendali che iniziano una giornata dicendo buongiorno ragazzi come va c'è il sole lì che è una cosa che così nessuno può dire niente sul loro comportamento ovviamente dopo un po' questi account aziendali che ti danno il buongiorno ti dicono va bene ciao buongiorno buongiorno a te però non è che sia così entusiasmante noi siamo tutti digitali più o meno qua e non visitiamo quasi mai questo tipo di posti che si chiama edicola io io da volte ci vado e trovo delle robe inaspettate non dico vedo quei giornali di cui conosco l'esistenza i settimanali o i mensili più famosi quelli ok ma i giornali di nicchia non so se chi di voi si occupa di settori strani strani non mainstream sa che esiste di solito un giornale ancora forse per un pochino che si occupa esattamente di uno specifico argomento canne da pesca per la pesca d'altura non so neanche cos'è la pesca d'altura allora cosa possiamo imparare dal giornale che fa questo tipo di cose intanto normalmente loro hanno pochissima presenza digitale perché cercano di difendere il loro territorio quindi noi gli possiamo fregare tra virgolette le idee per le cose da trattare sulle nostre pagine sui nostri spazi possiamo anche fregargli tra virgolette un altro tipo di idea che è l'impostazione a rubriche di questi giornali l'impostazione a rubriche di questi giornali cosa fa cosa ci dice ci dice le cose che le persone preferiscono ascoltare sentire in quel determinato settore in quel determinato argomento magari a noi consulente o agenzia o marketing di un certo azienda non ci era venuto in mente che sul giornale della pesca d'altura c'è scritto quali sono l'andamento delle fasi lunari al posto dell'oroscopo per loro magari è un interessante argomento perché il livello del mare fa diminuire o aumentare il tasso del pescato quindi tornando a bomba andate in edicola e per esempio compratevi la mia barca che deve essere un giornale veramente molto interessante oppure autocar di cui non conoscevo l'esistenza un altro posto non digitale in cui potete andare che sono anche posti bellissimi spero che resistano ancora per un po' sono i diciamo le librerie dei bambini o la parte per bambini di una libreria normalmente perché perché sono piene direi di libri di favole libri di giochi libri di questo tipo e direte ma che ci me frega a noi dei libri di favole ci frega tantissimo perché alla fine lo storytelling non è stato inventato dalle agenzie di social media è stato inventato 3.000 anni fa dalle favole di ESO di Zopo delle regole di Prop queste robe qua cioè le favole hanno uno svolgimento che è rimasto più o meno sempre lo stesso i contenuti che funzionano sono storie e le storie non sono io sono entrato qui ho fatto una presentazione e poi sono uscito una storia è io sono entrato qua ho visto un sacco di gente ho attacco di panico non so cosa fare poi mi riprendo e continuo no questa è la storia peggiore che mi potesse venire in mente però ogni storia deve avere un punto di tensione adesso io non sono un esperto di favole sono abbastanza scalso però cosa succede? che c'è un eroe che è in pericolo che viene salvato o si salva perché trova una bacchetta magica insomma voi che avete fatto studi classici lo sapete meglio di me ecco il tono con cui bisogna scrivere i contenuti è questo non è quello lineare almeno i contenuti sui social media quello che funziona meglio per le persone quindi trovate la vostra bacchetta magica stessa cosa per i negozi di giochi i negozi di giochi hanno i giochi da tavolo quelli cartoni monopoli risico eccetera questi giochi perché hanno avuto così successo? perché si gioca ancora monopoli ancora risico? perché in realtà sono la gamification adesso va tanto di moda dire ah no devo fare la gamification sul mio sito sul mio progetto devo inserirci un po' di gamification dentro una quanto basta di pepe sì è giusto però alla fine non è che serva essere degli esperti di gamification bisogna capire quali sono le regole del gioco come le regole delle favole più o meno ci sono anche le regole del gioco qualcuno quando si vince quando si perde quali sono le regole si può imparare molto da giochi che sono all'interno della di un negozio di giochi per esempio chi ha inventato Russell probabilmente gli è venuto in mente che esistevano già milioni di giochi che consistevano nel mettere in fila delle parole o qualcosa del genere dai forza 5 dove mettevi dentro i i cosi blu e rossi eccetera quindi giochiamo a monopoli e impariamo la gamification su social media invece cosa succede che spesso in in agentia in azienda ci allambicchiamo su un altro tipo di di elemento che sono i video allora non so chi di voi conosce nonno Nanni che fa gli stracchini io non sono benissimo bravi allora disclaimer me l'hanno mandato loro il comunicato stampa quindi io mi considero autorizzato a farvelo a farvelo vedere loro mi hanno scritto alla loro agenzia molto carini anche devo dire molto così corretti eccetera guarda abbiamo fatto una serie di video in cui mostriamo il nostro il nostro prodotto una nuova in un nuovo modo un po' più 2.0 insomma eccetera eccetera allora ve lo faccio ascoltare vedere questo è il numero 2 diciamo della serie è una serie a puntate carissimi siete qui per imparare a diventare responsabili solo così riuscirete a volare su tutte le tavole cosa vuol dire responsabili essere responsabili significa seguire le regole solo chi si prende la responsabilità va avanti è da qui che nasce l'eccellenza l'importante è fare il primo passo e se cadi ti devi subito rialzare lavagna parlaci della terra la terra è il nostro futuro dobbiamo proteggerla dall'inquinamento anche voi ma noi siamo piccoli sì ma crescerete ecco quello che faremo le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla vostra lavorazione saranno attentamente compensate attraverso l'utilizzo di pratiche ecosostenibili lo so che adesso state navigando per cercare l'episodio numero tre aspettate un attimo dopo non ve lo andate a vedere allora io gli ho scritto ma non mi sembra un contenuto tanto web insomma ma infatti l'abbiamo pensato più per i bambini che vedete su youtube scusa va bene per i bambini ve lo mostravano a scuola insomma in queste queste robe che fanno scuola ok senti va bene indovinate quante visualizzazioni ha avuto questo video dai dite un numero eh tre no dai tre una ero io eh centotre cinquecento milioni non hanno pagato per il questo video centocinquanta adesso raddoppieranno quindi hai visto che funziona allora io mentre scaricavo quel video lì mi è comparso in youtube mi è comparso di fianco nei video consigliati un altro un altro un altro video tratto dall'omonimo gruppo su facebook realizzato dalle malatementi di Piffo e Iari tratto da una storia quasi vera oh mio dio c'è qualcosa nella mebbia chiudete la porta chiudete la porta chiudete gli occhi un malvagio nonnetto un esercito da sconfiggere solo io non so come farlo con la partecipazione straordinaria di Davide e con Giovanni Rana è la fine del mondo il terribile nonnonanni è l'esercito degli stracchini volanti inizia a volare inizia a volare basso va bene allora indovinate quanti visualizzati eh no dai ne ho avute 150.000 allora guarda non dico che dobbiamo autoprenderci in giro però alla fine gli stracchini hanno avuto anche un gruppo spontaneo su facebook quindi hanno avuto un gruppo spontaneo su facebook e un video da 150.000 views gratuito che non hanno fatto loro sicuramente come? no perché non avrebbero avuto il coraggio di mettere Giovanni Rana dentro di solito guai a citare il competitor o comunque altre aziende quindi al fine il tono è quello è quello che conta non tanto diciamo il contenuto del del video oh mancano pochi pochi minuti volevo finire con altri 5 o 6 idee stiamo tutti dimenticando molto velocemente non solo quelli anziani come me cioè il fatto che abbiamo siamo bombardati tutti i giorni da una massa incredibile di informazioni ci porta forse anche meglio così a dimenticarne il 99% tanto più quello che vediamo sui social media su Facebook su Twitter se ci fate caso quattro giorni su Twitter sembrano quattro anni fa andate a vedere un vostro tweet di quattro giorni fa sono passati un sacco di tweet effettivamente non l'ho detta non l'ho detta io è la detta Kupland che può ben dirlo insomma quindi dal nostro punto di vista cosa possiamo fare vediamo la cosa come come un'opportunità ricicliamo i nostri contenuti ci sono brand che ogni due o tre giorni pubblicano la stessa foto e la stessa foto ha tutti ogni due o tre giorni ha un milione di like su Facebook non sto scherzando magari non due o tre giorni ma ogni settimana voi ve ne siete mai accorti? cioè vabbè qualcuno che lavora nel settore ovviamente se ne ha accorto però mia mamma non se ne accorge neanche mia sorella perché? perché la gente pensa infinitamente a noi meno di quello che pensiamo come diceva Veronesi quindi la probabilità che qualcuno ci abbia visto è davvero infinitesimale e anche se ci ha visto ci ha dimenticato e quindi noi gliela rifacciamo vedere gliela rifacciamo vedere perché abbiamo visto che gli piace quella cosa lì quindi i contenuti tornando serio i contenuti che funzionano sono contenuti che non dobbiamo mettere via pensando che non funzionano più sono le repliche sono le repliche televisive sono il Titanic che ce lo fanno rivedere ogni primavera o comunque ogni anno è il Viacolvento il Pretty Woman della situazione dobbiamo trovare i nostri Pretty Woman aziendali e poi riciclarli perché funzionano le persone hanno voglia anche tutto sommato è rassicurante rivedere le stesse cose voi non ci crederete ma le persone le piace cosa estremamente low cost che io trovo ho trovato estremamente utile iscriversi a un corso di fotografia e di scrittura non è che nel 2013 serve essere fare delle foto estremamente perfette però con pochi diciamo pochi punti poche lezioni si riescono a produrre dei contenuti soprattutto video molto video scusate foto molto 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 interessanti e se riusciamo a produrre direttamente noi o comunque qualcuno dentro l'azienda a volte risultano appunto come dicevo prima anche più veri questa è una foto che ho fatto io quindi non ha pretesa di chissà quale artisticità questa è una fabbrica di bulloni cioè una classica fabbrica metalmeccanica dove se andate a vedere sul vostro sito sul loro sito vi uccidete dalla tristezza dopo dopo dieci minuti no? perché loro non sanno raccontarsi e non sanno fotografarsi a volte anche nel cosiddetto B2B nelle parti che è meno nel settore meno ispirazionali ci possono essere dei dettagli che possono essere interessanti da fotografare quindi la cosa migliore che potete fare è il corso di fotografia e di scrittura siamo quasi arrivati al termine adesso vi vi voglio parlare di questo mistero perché la vostra azienda ha 137 fan dovete spendere in advertising qui ci sono delle cavolo di pagine facebook che hanno un milione di iscritti e non si capisce nemmeno chi le faccia non fanno pubblicità e sicuramente non hanno mai speso un cent di pubblicità perché sono pagine terribili questa è la ragione di base ma perché sono terribili sono terribili perché vanno a colpire esattamente il bisogno estremo a livello più basso soprattutto su facebook diciamo la verità delle persone cosa sono qual è il livello più basso il livello più basso è quello che conoscono tutti i bisogni che hanno tutti romanticismo amore così svegliarsi con una bella frase andare al cinema ricordarsi dei film che hanno visto ecco questa pagina si chiama le frasi più belle dei film cuoricino cuoricino che sempre non sottovalutate la forza del cuoricino cuoricino davvero e cosa fa? eh anch'io tu la odi? vabbè perché non sei biba tu ecco cosa fanno loro ogni giorno prendono una frase probabilmente da wiki quote poi vanno su imdb fregano la foto del imdb senza nessun tipo di credito ormai l'hanno fregata in 500 mila basta cercarlo su google images e quindi trovare un altro che l'ha già fregata per conto tuo e quindi prendere quella del metterci la frase sopra e aspettare aspettare soprattutto gli share perché quelli che noi cerchiamo spesso il like il commento che vanno bene voglio dire per far circolare l'informazione su facebook però il segreto è lo share il fatto che uno lo prenda il tuo utente e paf paf lo mettono nei loro profili e la quantità di diffusione che ha l'informazione in questo caso è veramente elevata ma perché è veramente elevata perché Abiba piace tantissimo avere il suo profilo facebook iniziare la mattina con una bella frase tratta da un bellissimo film che l'ha fatta piangere tanto corollario le citazioni sono gratis almeno la CI non è ancora arrivata credo quindi io posso citare una frase tant'è che ci sono degli account twitter che tutto il giorno non fanno che mandarvi frasi di 140 caratteri assolutamente ispirazionali così per farvi sentire stay angry stay foolish per 24 ore al giorno e voi cosa dovete semplicemente fare? dovete usarle dovete usarle accoppiate i vostri contenuti aziendali allora la foto del bullone da solo è una foto di un bullone la foto di un bullone con una citazione potrebbe una citazione una frase una cosa di questo genere potrebbe cambiare leggermente le sorti della vostra pagina facebook tant'è che qualcuno ha detto vabbè è vera questa cosa la industrializziamo ci facciamo una start up chi è che per cosa non c'è una start up nel 2013? questo è il nostro mio carissimo Lorenzo Fienti quello che è di di followgram ho detto bene vorrei fare una gaff followgram che ha fatto una foto la messa su instagram e esiste un diciamo uno spin off di una start up di di instagram quelli che lavorano appunto con le api di instagram che si chiama statusgram è un'applicazione per l'iPhone e cosa fa? come quelle applicazioni che vi mettono la temperatura e il meteo sopra le vostre foto di instagram prima di mettere in instagram mi spiegherete voi poi a cosa serve che tu mi dici la temperatura dove sei tu visto che io non sono lì però evidentemente visto che qualcuno lo usa ha un suo senso però questa ha ancora un senso più alto nel senso che qui stai facendo in realtà uno status che è testo più foto assieme bingo questa cosa qua dove la puoi mettere? la puoi mettere su la puoi mettere su su instagram ovviamente ma la puoi condividere dove vuoi tu su facebook su twitter su tumblr dove ti pare quindi l'equazione fondamentale è che l'immagine sta alla citazione non so se è un'equazione o qualcos'altro comunque c'ha un uguale due divise immagine sta alla citazione come il pane sta alla marmellata quindi è il suo assoluto complemento siamo quasi alla fine non temete un altro trucco che io uso che vi rilevero ma probabilmente lo fate anche voi è che se vi scoccia un casino seguire un sacco di pagine su facebook perché in realtà non vi interessano davvero volete solo vedere cosa fanno perché sono concorrenti o fonti di ispirazione o cose che potreste fare anche voi per il vostro cliente o per la vostra azienda le potete mettere nelle liste le cosiddette liste di interessi che è una di quelle cose che il 99,99% degli utenti di facebook penso che non sappia nemmeno che cosa siano la cosa carina è che potete avere una persona o un profil o una pagina in una lista di interesse senza seguirla direttamente così non ve la ritrovate dentro il vostro feed che mantenete pulito con solo i vostri cinque amici più cari quelli che avete con la stellina e vi potete guardare tutte le marche che vendono online come me quindi la mia lista e-commerce è pubblica quindi le liste sono pubbliche quindi se volete uno può seguire anche una lista altrui esattamente come in Twitter la cosa interessante è che facebook ci aiuta e ci dice senti ma se tu hai messo questo questo e questo in lista perché non metti in lista anche questi due o tre diciamo che due volte su tre il suo suggerimento al contrario di quelli di Twitter che sembrano fatti da un ubriaco diciamo la verità questi qui sono abbastanza abbastanza affidabili e quindi una lista può crescere lentamente o insomma gradualmente nel tempo e quindi riuscire a diciamo ad avere solo quando volete voi un quadro di quello che stanno facendo aziende quelli bravi o quelli meno bravi insomma in un determinato settore oh con questa praticamente ho finito ecco se ve la fanno tanto facile c'è un effetto collaterale questa è una regola che dovreste tenere tenere stampato da qualche parte magari in vista del vostro capo insomma quindi se qualcuno vi vende follower è perché a loro non costano nulla quindi se a loro non costano nulla probabilmente a voi non rendono nulla altrimenti non ve li venderebbero per così poco è un po' come diciamo come quelli che non so se avete mai notato su in giro cioè tutti quei siti con con le forme lunghissime dove vi vogliono purché voi gli date la mail e vi danno un pdf dove vi rivelano i segreti per vincere in amore o diventare ricchi su internet ecco il discorso è sempre lo stesso quando quando qualcuno vi rivela dei segreti a pagamento vuol dire che vi sta fregando perché altrimenti li userebbe li userebbe per loro per lui stesso quindi diventerebbe lui ricco anziché anziché venderlo quindi niente nulla è facile è un lungo percorso ci sono tante idee a volte bisogna rischiare bisogna cercare soprattutto di non essere noiosi e so che la cosa più dura a volte è farlo capire a chi decide strategie budget e anche il livello di rischio di certi contenuti di certe iniziative grazie ho un monitor che mi dice che ci sono cinque minuti se qualcuno di voi ha dubbio o una domanda al volo ben venga una due e tre va bene ciao volevo chiederti una cosa al volo bellissima la presentazione però volevo sono piaciute le mie foto sì belle molto era l'unico motivo per cui ho fatto la prima voglio dire ho fatto io i contenuti avete capito la metafora va bene no la stessa hai scusa visto che mi alligno molto con la con la tua idea di content generation e tutto il resto però visto che mi alligno forse devo usarlo ok visto che mi alligno molto con tutta quella che la tua strategia di content generation sui social ma spesso quello che trovo è la diffidenza rispetto non so a qual è poi la conversione no di tutta questa content generation volevo chiederti se tu potevi darci qualche feedback qualche sito che tu solitamente utilizzi per monitorare quanto poi tutto questo che è un processo di content generation converte chiaramente a seconda di qual è poi l'obiettivo di questa strategia ecco dunque c'è un panel su Roy credo c'è già stato un panel su Roy allora io credo che ci siano tre misurazioni allora uno è quanto tutta questa generazione di contenuto riesce a portare traffico sul vostro sito soprattutto nel caso che voi vendiate qualcosa perché se non vendete probabilmente il visitatore in sé per sé che dal social arriva sul sito non ha poi tutta questa importanza secondo livello di misurazione secondo me è quello di misurare l'impression e paragonarla al costo dell'impression pubblicitaria non è il migliore dei mondi possibili ma è comunque un criterio se io riesco a avere una portata della mia pagina facebook di centomila views settimanali devo guardare quanto queste views vere però non quelle inventate o comunque stimate dall'altra parte mi sarebbero costate magari prendendo una pagina pubblicitaria considerando che queste sono persone che hanno scelto di vedermi e quindi hanno comunque un valore intrinseco più alto che io per stare sul sicuro diciamo considero pari c'è un altro valore del social media che è forse immisurabile che è quello del fatto che io riesco a ottenere un contatto che prosegue nel lungo periodo con delle persone quanto vale il ciclo di vita del mio fan del mio cliente cioè del mio fan e quanti di questi diventano clienti in questo momento la cosa più problematica io parlo per chi vende online in generale ma anche per gli altri è che il nostro cliente diventa sempre più smemorato dicevo prima dimentichiamo il 99% delle cose che vediamo e normalmente ci si dimentica delle cose ci si dimentica anche dei posti dove hai acquistato se tu non ricordi continuamente dal nostro cliente della tua esistenza finirai per finire nella fascia ignota dei siti che ha visitato ma di cui non si ricorda più quindi non puoi non esserci diciamo nei luoghi in cui il nostro cliente abita giornalmente che non vuol dire essere per forza su tutti i social media se il nostro cliente non c'è non deve essere per forza essere su twitter se il nostro cliente fan utente super fan chiamiamolo come vogliamo non c'è non so se ho risposto alla domanda ok bene ce l'ho fatta c'era domanda? io avevo una domanda sull'utilizzo di google perché tu dicevi giustamente di utilizzare la ricerca avanzata che io di solito utilizzo e ti volevo chiedere come poi match il contenuto che vai a cercare su google con quello che interessa abiba insomma cioè ci ha creduto cioè quali sono gli strumenti di ricerca avanzata che utilizzi per diciamo fare una profilazione dei contenuti allora sostanzialmente devi metterti nei panni di biba quindi devi partire da cosa cerca con quali parole chiave cerca quali sono i contenuti che trova che ci sono già quindi google ha un sacco di strumenti in realtà quindi adesso non potevo parlare di tutto però gli strumenti per le parole chiave di adwords non sono solo uno strumento pubblicitario sono una ricerca di mercato gratuita quindi da una parte le parole chiave è guardare la numerosità con la quale vengono cercate da quell'altra con quelle parole chiave che cosa c'è in rete quali sono i contenuti che sono che escono e non solo appunto i primi che escono ma guardando con la ricerca avanzata contenuti che che magari sono vecchi che possono essere rinnovati da noi per capire qual è l'utilità che possiamo dare però non è una non so se ti deludo ma non è una cosa scientifica voglio dire non c'è un processo scientifico si va per tentativi e cercando contenuti che magari possono essere riutilizzati o comunque ripensati o riusati ci dici quale azienda ha ascoltato il tuo consiglio di regalare gli smartphone ai dipendenti non quale azienda cioè se è successo poi se vuoi dire l'azienda bene ma guarda in realtà non è un'azienda famosa non mi interessava l'azienda capire se veramente poi è successo si si sono due cooperative adesso non è che le hanno regalate a tutti e 200 ovviamente sono due cooperative diciamo del commercio equo che hanno poi ha funzionato cioè loro hanno iniziato a raccontare sì perché c'erano due persone diciamo della della comunicazione o comunque del marketing che che prima erano bloccate inchiodate con le catene a questo desktop e che dovevano andare in magazzino magari a fare con le foto eccetera alla fine per un qualche motivo non riesci mai a essere con l'attimo giusto nel momento giusto per il contenuto giusto che io vado in giro magari con la macchina fotografica però quando succede davvero quella cosa interessante non ce l'ho perché non me la sono portata e quindi spesso c'è questo mismatch delle cose quindi sì è esistito veramente grazie se guardiamo i budget pubblicitari non è che voglio dire non è che sia il costo dello smartphone quello che ti cambia la vita ok l'ultima domanda diciamo così ciao complimenti per la presentazione volevo chiederti un parere ipotizzando un brand che semplifichiamo ha dei prodotti per donna però diverse per diversa età è meglio immaginare una biba media o tante bibe a seconda dei diversi target di riferimento grazie la biba media non esiste nella realtà tante bibe non sono gestibili perché non posso creare non posso io non posso creare 500 non ho potuto creare 500 50 presentazioni ognuna basata su il vostro singolo interesse una via di mezzo è possibile fare quindi tra quattro bibe possibilmente cioè è possibile disegnarle ecco perché il problema a volte non è nemmeno che sia una una segmentazione scientifica ma quello di ricordare ogni singolo giorno ai chi crea contenuti fotografie eccetera che sta parlando con quella determinata o quel tipo di persona insomma con quella persona non sta parlando con un pubblico indistinto che è poi un po' lo spartiacque tra un contenuto che funziona e un contenuto che non funziona ok bene grazie 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 a tutti